Marina Monassi Un riconoscimento per il grande impegno profuso a favore del porto di Trieste, la presidente del Friuli Venezia Giulia. Lo ha sostenuto e motivato stamane Roberto Treu, esponente del Partito Democratico, oggi peraltro rientrato nei ranghi sindacali della CGL. Già la scelta di Zeno D'Agostino e Mario Sommariva al porto hanno dato un chiaro segno di sviluppo ai rapporti internazionali e per la prima volta, grazie al doppio ruolo che aveva Saracchiani, siamo riusciti ad entrare in una legge nazionale sui porti. La prima volta è il 45 oggi. Che segna che ci sono due porti principali, Trieste e Genova. Non era mai accaduto che noi siamo riconosciuti assieme a Genova gli unici due porti di interesse nazionale e internazionale sui 144 porti italiani. E conseguentemente su tutte le risorse eccetera. Io credo che se c'è da dare un sigillo trecentesco della città a qualcuno, credo che nessuno come Deborah Saracchiani oggi lo meriti per tutte le risorse, gli impegni e i risultati concreti che hanno cambiato e stanno cambiando. Il volto non da solo, ovviamente in concorso col governo, in concorso col comune di Trieste e oggi mi fa piacere che di piazza, come dire, a secondi questo indirizzo e riconosca che è stata, che la strada da proseguire nonostante che al proprio interno ci fossero state fino a poco tempo fa opinioni radicalmente diverse. Credo che ci sono prospettive straordinarie e questo va sicuramente a merito, una gran parte del merito va alla giunta regionale, va alla Saracchiani, Trieste dovrebbe essere in questo senso.